Dai dipendenti universitari a quelli comunali, dagli uomini delle fiamme gialle ai vigili urbani in Fiera Vicenza hanno risposto alla chiamata aderendo allo screening di massa gratuito e volontario nato per fornire una sorta di mappatura sulla diffusione del covid, su quella feta di popolazione che teoricamente non ha avuto contatto col virus. Screening promosso dalla regione e condotto dall'Università di Padova. Stiamo cercando di tirare su, tra virgolette tirare su, quindi di campionare un gruppo di popolazione eterogeneo che ci consenta dopo di vedere ribadisco in soggetti che non sono a rischio oppure che non hanno evidenziato mai contatti con covid positivi per vedere qual è la prevalenza, per capire un attimino in questo momento come sta circolando il virus. L'equip di ricerca ha potuto contare sul supporto dei comuni e dei volontari della Croce Rossa. Siamo in 12 volontari, il nostro compito primario è quello di gestire i flussi, quindi accogliere le persone che arrivano, orientarli per i percorsi, quelli che potete vedere dedicati a noi, fare l'accettazione, quindi identificare le persone, controllare che i documenti che devono presentare siano corretti, siano compilati adeguatamente, li identifichiamo con un numero e poi vengono inviati in questi box per fare il tampone. Tampone nasale di ultima generazione che fornisce il risultato in 15 minuti e sui pericoli di un virus che si insinua spesso silenziosamente è intervenuto anche il sindacato degli infermieri ogni giorno impegnati in fiera ad effettuare i tamponi. È importante tracciare le persone che non hanno mai avuto contatti o che si presumo non abbiano mai avuto contatti e che sono i famosi asintomatici positivi. Queste persone magari sopportano bene il virus però sono una fonte di trasmessibilità alle popolazioni più deboli che va assolutamente individuato.